Durante la preparazione della carne sicuramente il nostro affumicatore si è acceso e ha già raggiunto la temperatura per iniziare la cottura. Posizioniamo il nostro pezzo di carne nell'affumicatore prestando molta attenzione al passaggio del cavo della sonda in uno degli appositi fuori. Naturalmente bisogna provvedere ad inserire una sonda d'ambiente in uno degli appositi fori posti appena sopra la bacinella d'acqua. In questo modo potremo controllare la temperatura della camera di cottura. Prestare molta attenzione che questa sonda non tocchi parti di metallo. Il legno ha già cominciato ad emettere fumo ma in seguito aumenterà. Possiamo mettere il coperchio e sigillare l'affumicatore. Consiglio di non aprirlo più fino alla temperatura desiderata. Sull'affumicatore vi sono disponibili delle feritoie regolabili, una sul coperchio e tre alla base. Queste servono ad aumentare o diminuire il flusso dell'aria. Chiudere per abbassarla, aprirle per aumentare la temperatura. Con un po' di confidenza si imparerà a controllare la temperatura interna. Non affidarsi al termometro in dotazione non è preciso. Nel mio vi sono errori di quasi 20 gradi. Attraverso i portelli di ispezione possiamo verificare la quantità d'acqua presente poiché sicuramente durante la cottura andrà aggiunta e lo sportello più in basso invece serve ad aggiungere altra carbonella. Raggiunti gli 80 gradi circa il pezzo di carne farà molta più fatica a raggiungere la temperatura finale di cottura. L'evaporazione dei liquidi interni crea una sorta di effetto piattaforma e ne rallenta la cottura. Per questa ragione ora impacchettiamo la carne con dei fogli di alluminio. Questa operazione permetterà di raccogliere tutti i succhi della carne, non farla asciugare e velocizzare il passaggio dagli 80 ai 93 gradi. Avvolgiamo il nostro pezzo di carne con quattro foglie di alluminio che abbiamo già preparato precedentemente sul tavolo. facciamo attenzione ad avvolgere il cavo della sonda di temperatura in modo che rimanga libero e ben chiuso nel nostro pacchetto. Una volta terminato riportiamo il pacchetto sul barbecue per continuare la cottura sino ai 93 gradi richiesti. Raggiunti i 93 gradi al cuore possiamo togliere il pezzo di carne dall'affumicatore, liberarlo dai fogli di alluminio avendo cura di raccogliere tutti i succhi, saranno utili per condire la carne. Ora non ci resta che affettare la carne per iniziare a gustarla. Consiglio di accompagnarla con un'insalata col slow e bagnarla con un po' dei succhi raccolti. Nel caso la cottura fosse terminata troppo in anticipo possiamo rifare un pacchetto con i fogli di alluminio e metterlo nel forno a 75 gradi per tirarlo fuori quando i commensali saranno seduti al tavolo. La cottura è avvenuta in modo perfetto, l'anello rosso sul bordo indica una perfetta affumicatura e vi posso anche garantire che il sapore è qualcosa di incredibile. Buon appetito!